Al momento non abbiamo gli elementi necessari per assumere una posizione, così il presidente dell'Ordine degli Avvocati del Verbano Cusiossola, Marco Marchioni, risponde in merito alle proteste che sono sorte dalla Camera Penale dopo la decisione del presidente del Tribunale di Verbagna, Luigi Montefusco, di togliere al GIP Donatella Banci Buonamici il fascicolo sulla tragedia della funivia del Mottarone. La Camera Penale di Verbagna ha indetto uno sciopero per il 22 giugno e convocato un'assemblea all'Hotel Majestic, nella quale verrà anche rilanciata l'iniziativa della separazione delle carriere dei magistrati. Crediamo che si tratti di questioni interne alla magistratura, dice Marchioni, che assicura anche il massimo apprezzamento al giudice Banci per il lavoro fatto in questi anni e aggiunge, riteniamo che anche la procuratrice Olimpia Bossi svolgerà al meglio le indagini. Intanto non si placa la polemica. Oggi è intervenuto con una nota il procuratore generale di Torino, Francesco Saluzzo, che chiarisce di non aver esercitato alcuna pressione sul Tribunale Verbanese, definendo false e ridicole le accuse ricevute. Le comunicazioni, spiega Saluzzo, sono state relative esclusivamente a una richiesta di informazioni sulle minacce ricevute dal giudice Banci, con lo scopo di verificare la necessità di chiedere misure di protezione alla Prefettura. E ribatte alle velate accuse delle Camere Penali non è certamente uno scambio di missive che faceva mente il Presidente dell'Unione delle Camere Penali o il Presidente di quella di Verbania, ma ad un'azione surrettizia, informale e subdola, il che sta a dire la commissione di un reato o di un grave e illecito disciplinare. Aggiunge Saluzzo, la decisione del Presidente del Tribunale di Verbania riguarda dinamiche interne a quell'ufficio giudicante e la sua aderenza all'organizzazione tabellare, cioè predeterminata e rigida, per dare attuazione ai principi costituzionali del giudice naturale e precostituito, e sarà valutata dal Consiglio Giudiziario e dal Consiglio Superiore della Magistratura, conclude il Procuratore Generale. Solo chi non mi conosce o ritiene che difetti in me un livello medio di intelligenza o di preparazione tecnica, può ipotizzare che io abbia posto in essere comportamenti così grossolani. La cosa fa torto anche al Presidente del Tribunale di Verbania, indicato implicitamente come disponibile a farsi con facilità condizionare da un altro magistrato. Il Procuratore di Verbania o Limpia Bossi è un magistrato tra i più corretti che io abbia conosciuto. Trovo gravemente offensivo ipotizzare che io, il Procuratore della Repubblica, abbiamo posto in essere manovre occulte, aggiunge Saluzzo, precisando che gli autori di queste affermazioni se ne assumeranno la responsabilità. E la vicenda proda al Consiglio Superiore della Magistratura. I consiglieri togati di magistratura indipendente, Loredana Miciche, Paola Braggion, Antonio D'Amato e Maria Teresa Balduini, si sono uniti alla richiesta dei colleghi Sebastiano Ardita e Nino Di Matteo al Comitato di Presidenza del CSM di investire con urgenza la commissione competente sulla correttezza della decisione adottata dal Presidente Montefusco.